Ok, ci sono. Mister, una bella partita oggi, superiorità numerica dalla mezz'ora, purtroppo non siete riusciti a trovare il vantaggio. Nel primo tempo avete subito spinto dopo l'espulsione di Manzi, però per il secondo tempo forse è mancato un po' di cattiveria per portare a casa i tre punti. No, più che cattiveria, direi che abbiamo portato troppo palla, abbiamo dato a loro l'opportunità di difendersi bene, quindi si sono arroccati e poi hanno cercato di colpirci in fronte a piede, è vero che siamo avuti due occasioni importanti, il nostro porterino ha sventato e quindi direi che poi tutto sommato sapevamo di incontrare una squadra forte e quindi va benissimo anche il pari. A proposito del porterino di Ghera, penso lode assolutamente per la prestazione di Arne e per la personalità che ha dimostrato. No, ma lui, sappiamo di poterci, su di lui sappiamo di poterci contare, abbiamo lui nel caso servizio un giovane, abbiamo Giorgione Sangalli che oggi servisce il vecchio, sotto questo punto di vista torniamo suoni tranquilli.